Quinta corsa all'ippodromo delle quinta corsa all'ippodromo delle capannelle prova riservata ad anziani a reclamare per 7 mila euro come prezzo basi 1640 metri One Best Store Pietro il Grande preziosa CAF Little Games Pericle più bella Griff Nitros in seconda fila Nat Ray Fetz Nives Pratolz Orfeo Dete pronostico orientato veramente verso più bella Griff numero 6 dello schieramento 100 metri lo stacco macchina che accelera in partenza emerge in maniera piuttosto agevole il numero 4 Little Games c'è l'errore da parte di Pietro il Grande all'esterno più bella Griff che gradatamente perfezione il sorpasso sul leader terza posizione alla corda per il numero 3 preziosa CAF all'esterno è rimasto Pericle la cui schiena è presa da Orfeo Dete cavalli che vanno a chiudere i 400 iniziali con più bella Griff al comando al suo esterno è Pericle poi il numero 11 di Orfeo Dete terza per gli esterna per Nives che offre la schiena Nitros attacco dei 600 metri con le posizioni non mutano si sono formate più pariglie più bella Griff con all'esterno Pericle poi il numero 4 Little Games che ha di fuori Orfeo Dete ancora preziosa CAF con all'esterno Nives attacco dei 750 finali con più bella Griff sempre in vantaggio nessuno fa la prima mossa all'esterno adesso prova a facciarsi Nives che provoca la reazione di Orfeo Dete davanti più bella Griff reagisce allungando guadagna di dentro Little Games seguito anche da preziosa CAF cavalli all'attacco dei 450 finali più bella Griff in controllo su Orfeo Dete poi Nives si aggiunge a lotta anche Nitros gruppo che entra in rete d'arrivo piuttosto raccolto più bella Griff prova ad allungare al suo esterno è sempre Orfeo Dete senza spazio Little Games richiesta più bella Griff ci prova in terza ruota anche Nives ultimati di corsa con più bella Griff che allunga ci prova di dentro Little Games trova la luce anche preziosa CAF ma sul traguardo più bella Griff viene da fermarsi in maniera chiara sul numero 4 Little Games la numero 3 preziosa CAF treno interno premiato sul traguardo vince bene più bella Griff rene legati alla guida la Griff è quella di Paolo Leoni la scuderia Indal di casa legati veramente una facile affermazione ottimo Little Games rivisto in buon assetto e poi per il terzo posto preziosa CAF è tutto per questa quinta corsa dalle capannelle Grazie a tutti